Buongiorno e bentornati nella Tana della Volpe. Oggi torniamo a parlare di libri in attesa di altre novità succulente, ma un libro che videvo da molto tempo, perché è stato l'ultimo libro del book club, rifaccio la frase, è stato il libro dell'ultimo book club e quindi del book club di settembre, ovvero la buca di Oyamada Hiroko. Purtroppo non ce l'ho, vi faccio comparire qua come sempre la cover, non ce l'ho perché l'ho imprestato, ma appunto l'avete sicuramente già visto, quindi faremo meno. Facciamo finta che è qua. Allora, pareri misti rispetto a questo libro, non sto a raccontarvi chi è Oyamada Hiroko perché avevo parlato già della fabbrica che è stato il suo primo libro tradotto in italiano, sempre da Mary Pozz, anche questo tradotto per Mary Pozz, quindi non mi soffermerei sull'autrice, è un'autrice per noi giovane, nel senso che è un'autrice di cui abbiamo ancora pochi testi, pochi titoli, e questo è motivo di curiosità, è un'autrice che viaggia per lo meno per quanto abbiamo visto ora, sull'onirico, sul surreale, con una forte componente di critica sociale, e la buca non si discosta molto da questo impianto di base. È un romanzo che è sottile, appunto non è un romanzo, come dire, impegnativo per numero di pagine, è sicuramente un romanzo particolare che ha suscitato, appunto, all'interno del book club reazioni miste, qualcuno l'ha apprezzato molto, qualcun altro invece proprio si è a volte quasi risentito per tutte le informazioni che poi vengono lasciate a metà. Ma andiamo per step, ovviamente non entrerò negli spoiler, quindi troppo nel merito di alcune parti, ma per darvi l'idea di che cosa racconta questo romanzo. Siamo nel Giappone contemporaneo, siamo in una metropoli dove la protagonista, che si chiama Asa, ci viene introdotta in una dinamica di quotidianità familiare. È una donna giovane, sui 30, se non ricordo male, qualcosa in più, che fa un lavoro di cui non è particolarmente entusiasta, ma che in qualche modo è il suo lavoro ed è sposata da qualche tempo appunto con Muneachi. La sua quotidianità viene trasformata nel momento in cui a Muneachi viene proposto un cambio lavorativo, quindi gli viene proposto di spostarsi dalla città e tornare verso il suo paese di origine, quindi fare questo salto lavorativo che è anche insieme un salto di vita, un salto anche di stile di vita molto importante. In questa decisione è coinvolta ovviamente anche Asa perché cambiando il territorio, cambiando la città e quindi dando il via a una nuova vita, è costretta ad abbandonare il suo lavoro. Questo tema del lavoro è un tema che torna, ne avevamo forse un po' parlato già anche nel podcast di cui vi metto il link, non è sicuramente affrontato con la carica che c'è in altri romanzi, come lo stesso La Fabbrica o come Un lavoro perfetto, ma è un, come dire, la goccia sulla pietra, no? È un tema che torna costantemente, che viene buttato all'inizio ma che poi continua per tutto il romanzo nella domanda, no? Ho lasciato il lavoro? Sono contenta di aver lasciato il lavoro? Che cos'è la mia vita senza il lavoro? E soprattutto ho lasciato il lavoro per assecondare il mio marito, quindi dove sta la mia autonomia rispetto alle scelte lavorative? E ha senso trovarsi un nuovo lavoro? Il lavoro deve piacermi? Il lavoro deve essere un mezzo per guadagnarmi da vivere o deve essere qualcosa che mi dà anche una gratifica di altra natura? Queste sono tutte domande che io adesso semplifico ma che sono buttate, un po' random all'interno di tutto l'arco narrativo. Inizia ovviamente il romanzo proprio con queste grandi domande, no? Domande che arrivano tramite magari la voce delle colleghe, tramite la voce di persone che sono accanto ad Asa. Fatto sa che questo cambio di vita arriva e quindi Muneaki e Asa si spostano, tornano a vivere in provincia e tornano a vivere esattamente di fianco ai genitori di Muneaki, quindi di fianco agli suoceri. La situazione qua ci viene proposta in modo molto ironico all'inizio, anche se attraverso l'ironia che Oyamada mette in campo capiamo che queste due persone, soprattutto la madre Tomiko, è una bravissima donna indubbiamente piena di buone intenzioni ma molto invadente. Tanto invadente che decide lei come organizzare la casa, tanto invadente che gestisce lei il trasloco quando i traslocatori arrivano in casa e quant'altro. Asa sembrano riuscire mai in realtà a imporsi, a mettere un piede in casa sua sentendo la sua e quindi a porre dei confini, delle barriere effettive con questa suocera, non riesce mai a farsi valere e questa dinamica, a mio avviso anche molto credibile, molto fastidiosa per certi versi, è una delle altre parti di questo romanzo, uno degli altri tasselli che Oyamada mette in campo per raccontare, a mio avviso, la quotidianità di una donna normale all'interno di una società complessa. E fin qua siamo tutti in una situazione di vita abbastanza quotidiana, a un certo punto però il surreale o il soprannaturale, non si capisce, entra proprio a pieno titolo all'interno del romanzo anche in modo abbastanza così, non dico violento, ma significativo perché una mattina, in queste giornate in cui Asa si trova senza lavoro, quindi sostanzialmente senza dover fare niente, passeggia lungo il fiume e incontra un animale stranissimo, nel seguirlo cade in una buca, questo è un richiamo molto evidente a Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice che insegue il coniglio e cade nella buca, qui non c'è un coniglio, la buca non è così profonda, non porta nello stesso modo a un altro mondo, ma certamente dal momento in cui Asa cade in questa buca, l'altro mondo si fa vedere molto di più, l'altro mondo è stato interpretato in vari modi durante il nostro book club, il mondo onirico, il mondo mentale di Asa, personalmente io l'ho interpretato come il mondo dei morti, quindi questo passaggio, questo tonfo dentro la buca come passaggio simbolico per riuscire a vedere cose che le persone nella loro quotidianità invece non vedono e in particolare appunto figure di fantasmi forse, figure di spiriti, figure che non sono più parte di questa dimensione. Questo passaggio è un passaggio che viene marcato da alcune figure che adesso io non vi spoilerò qui, ma che tornano con una certa consistenza, una certa costanza fino alla fine del romanzo. Sono in particolare una donna, un uomo e alcune altre figure di contorno che popolano in effetti la dimensione quotidiana a questo punto di Asa e in qualche misura la accompagnano in questa nuova vita, forse punto di domanda. Tra tutte queste figure c'è quella del nonno di Muneaki, quindi di una persona che è particolarmente anziana, che è quasi al di là, che già vede una soglia diversa e che quindi forse insieme a Asa condivide questa sensibilità della soglia ed è una figura che anche qui segna un po' una, non voglio dire proprio un bianconiglio, ma segna sicuramente un accompagnamento in questa dimensione. È un uomo particolarissimo, un personaggio che a me ha intrigato molto, parla mai, però dai suoi gesti ci viene fatto capire che lui vede quello che vede Aya, mentre le altre persone non sembrano consapevoli di quello che sta succedendo. Così come alcune figure, alcuni personaggi che compaiono nel romanzo è molto difficile leggerli, ovvero interpretare se sono persone che effettivamente tutti potremmo vedere o se sono visioni di Asa o se sono che cose. Sono figure di raccordo che sembrano condurre la protagonista in una direzione, quindi la conducono effettivamente in una direzione, ma non abbiamo in effetti mai la soddisfazione di capire chi sono fino in fondo. In tutto questo, questo avvicinamento al mondo dei morti porta anche a un avvicinamento ulteriore a dei segreti di famiglia e quindi ha una percezione di qualcosa che sembrava chiaro, cristallino, la verità con la V maiuscola, ma che in realtà così cristallino non è. È come se quindi andando a vagare in questa dimensione parallela, Asa lentamente scoprisse anche i panni sporchi di casa, mettiamola così, di Muneaki. Muneaki è una persona molto marginale secondo me in questa parte del romanzo, è una figura maschile che non è mai aggressiva, non è mai invadente, ma è anche come percepito mio molto egoista, una persona che poco aiuta Asa nel rapporto con la famiglia, poco si rende conto dell'invadenza familiare della madre, molto concentrato sul suo lavoro e quindi forse riesce anche poco a comprendere la solitudine e la fatica di adattamento della moglie. A questo punto arriviamo a un climax che non posso raccontarvi, come vedete quando si parla di storie soprannaturali non posso raccontarvi molto, ma sicuramente gli incontri sono tanti e questo climax, che è un climax probabilmente molto atteso anche, non sorprende, non è qualcosa che casca dal pero mi viene da dire, certamente segna una svolta, una svolta poi molto delicata, niente appunto di così trascendente, ma molto delicata verso quello che apparentemente poi sembra un ritorno a una vita quotidiana più completa. Sembra perché in realtà la percezione finale che ha Asa si adegui, si adatti, vada molto compromesso rispetto a quelle che potevano essere le aspirazioni iniziali, quelle che potevano essere anche le esigenze personali iniziali. Capisco che raccontato così forse si capisca molto poco, quindi leggetelo, secondo me va letto proprio perché ci sono degli agganci e ci sono dei passaggi che si comprendono soltanto se sia davanti l'immagine che Oyamada ci racconta. Io l'ho trovato molto interessante, ma perché io sento il fascino del sopranaturale, d'altronde io sono profondamente amante di Murakami e di quei tipi di racconti di Murakami, quindi non mi ha spiazzato, né mi ha spiazzato il fatto di non sapere. Molta della difficoltà che io ho avvertito nel Book Club è proprio il fatto di aver percepito questa incompletezza, no? Molte persone hanno detto sì, l'autrice scrive bene, però ha buttato sul piatto tante idee, tante ipotesi, tante strade e poi non ne ha percorso davvero una, ha lasciato tutto molto in sospeso. Anche la fabbrica ha un po' questa percezione di sospeso, anche se sicuramente la fabbrica poi offre un finale più incisivo. Qui non c'è quella stessa completezza nel finale, è molto più così vago, no? E in effetti può dare fastidio, proprio perché buttiamo tante suggestioni, tante suggerimenti e tante riflessioni che poi sembrano non tirare le somme. Io devo dire che comunque alcuni punti fermi li terrei, vale a dire punto di vista femminile, punto di vista femminile che si scontra con le esigenze lavorative di un marito che è evidentemente più vecchio stampo, punto di vista femminile che si confronta con la volontà o meno di rimanere nel mondo del lavoro, con la possibilità o meno di rimanere nel mondo del lavoro e che si interroga quindi sul proprio valore come persona dentro e fuori questa dimensione lavorativa. E trovo che sia molto interessante questo aspetto perché è quello che ci viene proposto, come dicevamo nel podcast, anche in altri romanzi contemporanei. Riflessione però anche sull'importanza della donna, sul ruolo della donna nel Giappone contemporaneo, quindi cosa faccio io, chi sono io in questo contesto dove sembra che la donna abbia dei ruoli ben costituiti e da cui non è facile uscire, no? Si parla in parte anche di famiglia, di costruire una famiglia con dei figli, sono discorsi anche qui molto disegnati a schizzo mi viene da dire, però non sono mai troppo approfonditi e secondo me ha il senso di voler lasciare quest'alone di mistero anche, quest'alone di chissà che cosa sta effettivamente vivendo Asa, quindi sta incontrando l'aldilà, sta vivendo una crisi mentale, sta facendo un sogno, sta vivendo i ricordi di qualcun altro, ci sono state tante ipotesi, ecco sicuramente quindi in questo senso il surreale, il sopranaturale aiuta il senso di vaghezza e capisco che possa essere in parte fastidioso da gestire perché non tutte e non tutti amiamo questa dimensione, ma soprattutto questo tipo di narrazione che sembra non portare a niente. In parte certamente non ci dà le risposte che vorremmo, io trovo sempre molto affascinante quando un romanzo rimane aperto, però capisco che invece possa in parte non dare la stessa sensazione, credo sia comunque interessante per i punti fermi che dicevo prima, per quindi questa riflessione un pochino più, ma un pochino più vaga forse anche, però sempre pressante sulla libertà d'azione femminile, la metterei un po' in questi termini, oltre che poi tutta una serie di altre riflessioni invece proprio sul mondo che Asa incontra e quindi su quanto anche questo mondo ci parli di famiglia e quindi su quanto la famiglia sia un'entità ancora valida, ancora importante, ancora ingombrante, ancora crudele anche in certa misura nel Giappone contemporaneo. È un romanzo breve, quindi chiaramente non è un romanzo che ha bisogno di raccontarsela per ore e ore e anche quello che io posso raccontarvi senza fare spoiler ovviamente ridotto, proprio perché appunto ci sono degli eventi molto pittorici che vanno letti e che aiutano anche l'atmosfera del romanzo, quindi io non andrei oltre, ma se avete invece letto il romanzo sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate, proprio perché ha suscitato diverse critiche anche all'interno del nostro book club. Se non l'avete letto vi consiglio anche la fabbrica, proprio perché continua questo tema del lavoro, raccontato da altri punti di vista, raccontato da tre punti di vista, vi linko lì il video così non dobbiamo raccontarcelo di nuovo, però certamente risuonano certe atmosfere, risuona certo surreale, risuona certo inquietante anche, che io ho percepito anche nella buca. A me piace, mi è piaciuto, sicuramente non lo posso annoverare tra i grandi capolavori che ho letto recentemente, però è un romanzo curioso, interessante e questo accenno ad Alice ci dà già una dimensione particolare, quindi io indubbiamente ve lo consiglio e appunto vi consiglio entrambi, sono due romanzi molto molto scorrevoli, quindi non rubano tempo di certo. Allora io per ora mi fermo qua, ma vi ricordo tutta una serie di eventi e di corsi che trovate sul nostro sito, vi ricordo domani la diretta con Patrick Colgan per parlare della riapertura del Giappone, come vi avevo promesso, domani il Giappone riapre ufficialmente al turismo e quindi domani noi ci colleghiamo alle 18.30 per parlarne insieme, non so esattamente in che direzione andremo come scaletta, però ci sono tanti punti di cui vorrei parlare, in particolare come si può ipotizzare un viaggio in Giappone da qui in avanti, ma ovviamente vi aspetto. Ci saranno poi dei corsi da novembre in avanti, quindi anche su quello stay tuned, li trovate già in parte, no, li trovate già tutti sul sito, ma mano a mano li pubblichiamo anche sui nostri social e ci sono una serie di video in programma su libri e su tematiche culturali che non vedo l'ora di riuscire a prepararvi e consegnarvi, ma prometto che ci sono e prometto che arriveranno presto. Quindi io per ora, come al solito, saluti di rito, se questo video vi è piaciuto io vi do un like e vi aspetto nei commenti se avete letto il romanzo o se vi incuriosisce, se vi siete iscritti al canale ricordatevi la campanellina, se non vi siete iscritti al canale potreste farlo, vi ringrazio se lo farete, così continuiamo come vedrete a parlare di libri, di letteratura, di Giappone soprattutto, sopra ogni cosa e mano a mano anche appunto di nuovo di viaggi e di cultura varia. Io per ora vi bacio, vi ringrazio tantissimo e vi aspetto al prossimo video. Ciao!